Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un episodio dedicato alle vostre domande. Un episodio dedicato alle disquisizioni caotiche che nascono triggerate dalle vostre questioni, dalle vostre istanze, proponete un'istanza e io l'accolgo o meno rispondendovi semplicemente delle domande di pubblica utilità a volte un po' meno nella maggior parte dei casi, alcune ho già risposto molte volte quindi le scarto, le ho scartate ragazzi andate a vedere le puntate vecchie o altre situazioni, se veramente uno è interessato alla mia opinione su un dato argomento che è abbastanza banale e sicuramente l'ho già risposto quindi uno si presume abbia guardato almeno la maggior parte dei miei video precedenti se è veramente interessato altrimenti se non si è interessato a guardare i video precedenti non si è interessato a sapere la mia opinione e quindi non fare la domanda banale perché tanto non ti rispondo ho già risposto, va bene detto questo io direi di passare alle domande, alle simpatiche domande non sto a dirvi il nickname di chi la posta perché sono improponibili a volte, impronunciabili li vedete in sovraimpressione così siamo tutti contenti ma io non li leggo prima, vista la crisi del gruppo Swatch credi che i prezzi dei loro orologi in particolare Omega possano contrarsi, ecco c'è la crisi del mercato dell'orologeria c'è, è generale generalizzata, il gruppo Swatch ha pubblicato recentemente i dati che le vendite sono state inferiori, il fatturato è stato inferiore ai primi sei mesi del 24 con un auspicio per un miglioramento nel secondo semestre, ora i prezzi dei loro orologi possano contrarsi, i prezzi di listino non si contraggono, non diminuiranno mai, possono diminuire l'aumento, cioè nel senso possono aumentare di meno, l'aumento può diventare più dilazionato nel tempo ma non diminuiscono i prezzi di listino, aumentano di meno, è come l'inflazione, l'inflazione diminuisce non vuol dire che diminuiscono i prezzi, l'inflazione diminuisce vuol dire che diminuiscono gli aumenti di prezzi, ma gli aumenti di prezzi ci sono, se i prezzi al dettaglio diminuissero veramente quella sarebbe deflazione e se fossimo in deflazione mettetevi le mutande di ferro perché sarebbero volatili per diabetici se diminuiscono i prezzi, ricordatevi questa cosa, se diminuiscono i prezzi di listino degli oggetti di beni di consumo sono volatili per diabetici per tutti, si va in rovina, detto questo cos'è che può contrarsi? è il prezzo, il street price, quasi tutti i rivenditori applicano una piccola percentuale di sconto, quella piccola percentuale può diventare più grande perché hanno bisogno di svuotare le rimanenze in magazzino, cioè gli orologi in magazzino quindi applicano uno sconto maggiore, ecco in quel senso lì potrebbe contrarsi, discorso differente poi per gli orologi usati che però non può essere presa in considerazione per quanto riguarda la tua domanda, la crisi del gruppo swatch non c'entra niente, i prezzi di listino non diminuiscono, possono aumentare gli sconti ma l'unica cosa è quella lì oppure gli orologi usati nel gruppo swatch ti dici sì potrebbero anche diminuire di prezzo di prezzo loro ma perché il prezzo a quel punto lo fa il privato che deve vendere l'orologio usato e trova meno mercato e deve abbassare il prezzo, ma è tutto lì eh buongiorno Davide potrei sapere come mai non ti occupi più spesso di microbrand italiani ed internazionali, non mi occupo così tanto di microbrand perché preferisco centellinare e sceglierli con cura, rifiuto molto spesso le domande, le richieste che mi fanno, mi scrivono i microbrand però io spesso le rifiuto, le rifiuto perché non, ora ultimamente mi ha scritto un microbrand italiano che è appena nato, mi avreva piacere che gli recensissi l'orologio e quando mi ha scritto sono andato a vedere il sito web, il sito web era nuovo, nuovo di pacca, cioè stava nascendo in quel momento lì, non c'era nessun orologio di dentro e anzi c'era l'hype, cioè la presentazione ci sarà in data e con i pezzettini che si vedono ora nasci oggi come brand, mai sentito dire in vita mia, fai il primo orologio e già ti permetti di fare l'hype, di fare la presentazione in un certo modo come se fosse, e già mi scade un pochino, un po' di umiltà di volare bassi, di fare le cose partendo dal basso, con la gavetta scalando, l'orologio è questo qua, no, si parte già, ho rifiutato, non so niente, non so cos'è, non so cosa non è, poi ci sono situazioni nelle quali mi è capitato di vedere persone, youtuber che tolgono il video perché l'orologio che avevano presentato che poi era in pre vendita, in pre ordine, quindi c'era la campagna Kickstarter credo, non è andata a buon fine, cioè il tipo non ha raccolto abbastanza soldi per fare gli orologi, quindi gli orologi non li ha fatti, ha rimborsato quelli che avevano, quindi non c'è truffa, ha rimborsato quelli che avevano versato i soldi e sto qua tolto il video, cioè è una figuretta che io non voglio fare, io voglio vedere un orologio che poi dietro c'è qualcuno di affidabile che non chiude baracca dopo due giorni o che si mette a fare l'hype, no, poi non scrivo mai email a nessuno, a nessuno per la richiesta di collaborazione, sono gli altri che mi scrivono a me, quindi si abbatte già notevolmente il numero, poi insomma devo vedere quali sono quelli che mi garbano, quelli che ritengo che siano utili a mostrare, perché poi voglio dire anche quelli italiani, quelli italiani esce un orologio e escono 14 video recensioni di quell'orologio lì, e io cosa mi do a fare la quindicesima, c'è bisogno, no, proprio mi rifiuto, mi rifiuto categoricamente, piuttosto preferisco fare qualcosa di particolare che viene anche preso poco in considerazione dagli altri, no, è così, poi non è sempre così, 3.000 euro totali, cosa consigli per prendere 4 orologi, di cui un diver, 2, un diver, 1, diver, 2, GMT, 3, everyday, 4, crono, manuale, e 3.000 vuole 4 orologi, ma perché, ma perché, c'è 3.000 euro a disposizione, prenditi un bello orologio da 3.000 euro, anzi con 3.000 te lo prendi da più di 3.000, perché con lo sconto poi lo paghi 3.000 e c'è la possibilità di scegliere un orologio bello, decente, che te lo indossi, che te lo tieni, no, ne vuole 4, cioè, proprio la scimmietta che chiede 4 orologi, la scimmietta più gliene dai, più è contenta, è lei che ne vuole 12, con 3.000 euro me ne prendi 12, e si mangia le noccioline così, capito, 12, 12 orologi, prendiamo 30 orologi da 100 euro, dai, 30 orologi da 100 euro, no, no, prendi ne uno da 3.000, no, anche perché poi con 3.000, un crono manuale, già ti toglie a metà del budget, 1.500, o 1.000, cioè, vabbè dai, lascia perdere, nell'ambito della certificazione COSC, ha ancora senso affermare che un orologio è certificato dopo che ha subito una revisione? Sì, secondo me sì, secondo me sì, perché la revisione non è altro che prendere i pezzettini dell'orologio, smontarli, buttarli, lavarli, rimetterli, oliarli e chiudere, e se l'orologio è stato fatto bene, nel momento in cui è chiuso, te lo ridanno, deve mantenere lo stesso tempo che manteneva prima, no, e a me è successo con l'Omega Deville, quello con il bracciale armadillo, che aveva dei problemi di lubrificazione, l'ho fatto revisionare da un orologio qualsiasi, l'ha preso, ha revisionato, me l'ha chiuso, me l'ha dato, e mi scarta di 5 decimi di secondo al giorno, è COSC, no? E quindi, è quello il discorso, una cosa diversa è dopo magari 20-30 anni che l'usura, i materiali sono usurati, non ha fatto le revisioni che doveva fare, i materiali sono usurati, devi cambiare qualcosa, lo devi riregolare, a un certo punto anche la certificazione COSC, cioè ti abbandona, cioè scade, diciamo così, scade. Oltre a Longin, se dovessi scegliere un altro brand da fare, una collezione a parte, quale sceglieresti? Bravo Marco Panziera, amico mio, io faccio la collezione di Longin Vintage, quindi parliamo di Vintage, no? Perché se uno dice Moderni, te li compri due Moderni, ho 4 Omega Moderni, quindi potrei anche essere un collezionista di Omega, no? No, parliamo di Vintage, se dovessi scegliere un altro brand, ecco, sceglierei qualcosa di poco costoso e poco visto, cioè non andrei su Zenit, su Omega, che sono costosi, sono visti, sono anche più conosciuti, o Rolex addirittura, che no, andrei su qualcosa di, magari dei marchi sconosciuti, ti scegli un marchio sconosciuto e vado su quello, Lanco per esempio, la collezione dei Lanco, li trovi dappertutto, costano poco, te li puoi studiare, no? Ti fai tutta la tua storia, la cronologia delle cose, oppure Certina mi piace a me, per esempio, come vinti, Certina anche lì, per esempio, mi stia da parte, in Italia non sono distribuiti, non li caga nessuno, tra che ti fai la collezione di Certina Vintage, oppure, ripeto, che Certina non è scomparso, poi dico, altri marchi scomparsi, come potrebbe Cima Tavannè, mi viene in mente questo, oppure, altri marchi minori, così, il pro è che costano poco, il contro è che nel momento in cui devi studiare, perché devi studiare per essere preparato, ci sono meno fonti attendibili da cui attingere, se uno fa la collezione di Rolex Vintage, c'è il mondo a disposizione, hanno studiato, gente prima di te ha studiato anche il quadrante con la Y, quello con l'indice storto, quei tre modelli che sono stati venduti in Arabia, c'è tutto di tutto, c'è un insieme di libri, di fonti da cui puoi attingere che è infinita, più ci sono le persone che hanno studiato da quelle fonti e sono lì e sanno tutto di tutto, quindi è più facile formarsi. Uno si mette a fare la collezione di Lanco Vintage, a chi lo chiede, non sana sega nessuno, no? Anche se vede il tuo orologio di fiducia con il Lanco, è originale questo e lì lo guarda e dice sì, ma te lo dice così, è in passante, perché non può sapere tutto di tutti, no? Ok? Allora, è così. Poi, dopo qualche mese di utilizzo, qual è la tua impressione generale sul Cartier Santos? Sarei tentato di prendere la referenza simile alla tua, ma con un quadrante marrone bronzo. Ora, sul quadrante marrone bronzo io non mi esprimo, ognuno ha i propri gusti, quindi va benissimo, prendilo, l'orologio che più ti piace è quello vincente, non sbagli mai. Dopo qualche mese di utilizzo, qual è la tua impressione generale? Sono veramente pochi, sono tre mesi che ce l'ho, l'impressione generale è ottima, sono contento dell'orologio, ma per dirti veramente il 100% ci vuole più tempo, no? Dopo un anno, due anni, tre anni, cinque anni, se ce l'ho ancora vuol dire che è stato veramente un acquisto azzeccato, se io non ce l'ho più, significa che è stato un fuoco fatuo. Mi sono sempre chiesto, come mai gruppi come la Citizen non montino solo un movimento migliore, serie 9000, sui loro orologi, magari vendendo la vecchia 8000 ai clienti tenendo esclusivamente per loro un movimento migliore? Bene, io ho anche chiesto durante le domande, fate una domanda corta, no? Perché poi a leggere tutto un papiro del genere mi vengono gli scatroni giganti e la gente fa le domandone lunghe. Bene, sono d'accordo anch'io con te, Citizen, dovrebbe montare, secondo me, solamente il calibro della serie 9000, che è quello un po' più pregiato, più sottile, più costoso e lasciare quello 8000 ai clienti terzi, anche i microbrand eccetera eccetera, non lo fanno. Ecco, ti sei chiesto a te come mai e me lo chiedo anch'io come mai, siamo due. Metti in ordine di importanza i fattori che guidano la tua scelta, esempio, numero 1 brand, numero 2 estetica, numero 3 movimento, numero 4 dimensione, numero 5 prezzo, numero 6 valore futuro. Allora, al primo posto metto l'estetica, cioè io vedo un orologio e dico, bello, mi piace questo orologio. Seconda cosa che dico, cos'è? Il brand. Bello? Il brand. Se il brand è affidabile, proseguo, se il brand non è affidabile ai miei occhi, non proseguo nemmeno. Poi a quel punto intervengono le caratteristiche tecniche di cui fanno parte movimento, dimensione, ok? Quindi vado lì, guardo, sì, ci sono le caratteristiche tecniche, c'è il diametro, c'è tutto, non c'è qualcosa, quelle cose che mancano sono sufficienti a non farmelo piacere più? Sì, no? Poi per ultimo c'è il prezzo, che però può essere quello decisivo. Quanto costa? Dopo che tutto va bene, no? Quanto costa? Troppo è giusto, decido anche lì, perché non esiste troppo è giusto. Ognuno, se un orologio mi fa impazzire, posso essere disposto a pagarlo anche più di quanto vale realmente, cioè non ci sono mica problemi, è quello che senti te. E il valore futuro? No, il valore futuro non ci ho mai ragionato sopra. Più che altro, un pensiero lo puoi fare sulla facilità di rivendibilità, nel senso, se compri uno degli orologi come lo Speedmaster o come un Tudor Black Bay 58, è più facile venderlo, non tanto per guadagnarci, ma proprio la velocità di vendita, no? È un pezzo che vogliono in molti, è più facile, ha più mercato, è più facile venderlo, ha il giusto prezzo, senza straffare, senza guadagnarci. Cioè, il valore futuro è investimento? No, per me non è un investimento l'orologio, come devo dirlo? Gli rimane un valore residuo, cioè se io pago una cosa a mille e poi dopo cinque anni la vendo a settecento, io ho sempre settecento lì che mi sono durati, sono contento perché per cinque anni mi sono goduto una cosa nella quale pensavo di sperperare i soldi, di buttarli via, perché gli orologi li compro come sfizio, non mi servono, no? Non li compro per investimento, li compro come sfizio. Se alla fine dei cinque anni, dei dieci anni mi avanza un capitale residuo, oh, in caso di bisogno lo vendo e mi rifaccio a quei settecento, anche se non ho spesi mille. Non mi interessa assolutamente prendere la mille e aspettare lì così fermo che arrivi a millecento per venderlo. No, no, non ne ho bisogno, non mi serve, fuori dalla mia concezione di orologio. Come nelle macchine, no? O in qualsiasi cosa di ludico, io utilizzo i soldi, li sperpero per gli orologi, li sperpero per una macchina, li sperpero, li sperpero. Quando si tratta di investire, di risparmiare e di utilizzare oculatamente un capitale ci sono altre situazioni, proprio no. Perché sennò cosa faccio? Non mi godo niente di quello che c'è intorno. Da qualche parte uno li deve sperperare i soldi, no? Che siano cento euro, cinquanta o mille, li deve sperperare? Eh, li sperpero negli orologi. Edizioni limitate, ti piacciono? Le giustifichi? Una che vorresti? Edizioni limitate ti piacciono? Ma no, non mi piacciono, cioè non mi interessano. Le giustifico? Le giustifico se sono veramente edizioni limitate, cioè ultimamente si sta iniziando a utilizzare il termine edizione limitata per qualsiasi cosa. salta fuori un microbrand, no? Come primo orologio edizione limitata. Perché? Non è un'edizione limitata. È l'orologio. Il primo orologio ne fai 200 pezzi perché puoi permetterti di farne 200, no? E quindi edizione limitata. Non è edizione limitata. È il tuo primo orologio che lo fai in 200 pezzi perché non c'è soldi per farne altri, non sai se li compreranno. Quindi non è quello. L'edizione limitata è quando c'è un orologio, possibilmente con uno storico lungo, no? Un orologio che è nato 10-20 anni fa, a un certo punto per il 70 anni fa, no? È nato 70 anni fa, quindi per il cinquantesimo anniversario fanno l'edizione limitata. Ha senso? È a senso. Sì, cinquantesimo anniversario fanno l'edizione limitata di quel modello in tot pezzi. Al prezzo che ti pare a te, più costoso del mondo, non mi interessa, quello ha senso. Ma in altre situazioni no. Ci sono brand, ora non mi sovviene, che però fanno edizioni limitate tipo 6, 3000 pezzi al mondo, ci sono tantissimi, non è un'edizione limitata. Cioè a un certo punto non la giustifico nemmeno, no? Una che vorresti, non ne vorrei, non ne vorrei perché non mi interessano. Io preferisco prendere i modelli che sono a catalogo. Cioè, non vedo perché. Lo Speedmaster, mi piace lo Speedmaster, mi compro lo Speedmaster, non vado a cercare quelli limitati o dedicati, no. A meno che uno non fa collezioni, allora deve averle tutte e si deve comprare tutte le edizioni limitate dello Speedmaster. Ma è un altro discorso. A me non mi interessano. Mi interessano i modelli base, i modelli che sono a catalogo da sempre. Pretendiamo sempre di più dagli orologi meccanici, precisione e durata. Pensi potrebbe ritornare in futuro a gran richiesta il quarzo? Non lo so. Non perché dovrebbe ritornare in futuro a gran richiesta il quarzo? No. Perché se uno vuole la precisione e la durata, gli basta uno smartwatch collegato a internet e ce l'ha. Perché dovrei comprarmi un orologio al quarzo? A quel punto lo prendo anzi meccanico. Se è una cosa che non c'entra niente con la tecnologia moderna, no? Come uno smartwatch, allora la prendo completamente distante. Non la prendo parzialmente distante. Un orologio al quarzo è molto vicino a internet, allo smartwatch, no? Tutto elettronico. Quindi siamo lì. Quindi mi piglio il meccanico, l'orologio meccanico che è fatto con i pezzi di ferro e le rondelle dentro, no? Che non c'entra niente con il resto del mondo. Costano di più e costano di più. Anche quello ti invoglia, eh ragazzi. È inutile dirlo perché se una cosa è costosa e ci può arrivare fatica e poi la vuoi più degli altri. L'orologio al quarzo mi costa 15 euro. Lo smartwatch non so quanto costa perché non ho mai avuto il piacere, però non vedo perché il quarzo dovrebbe prendere posto di tutto il resto. C'è un pilot che acquisteresti in futuro? Se sì, quale? Pilot. Con i termini del pilot qua si comprende una marea di modelli, di soluzioni. Flieger, non Flieger, Pilot Crono, non Pilot. Guarda, ti dico sinceramente, nella categoria Pilot, ora non ti dico un modello 556 di Zinn. Ecco, tu dico anche il modello. Zinn. Secondo me Zinn fa dei bei Pilot che sono talmente toolwatch, talmente tedeschi, talmente aspri, no? Che uno mi ci starebbe bene in collezione, sinceramente. Eh, lo prenderei volentieri. A quando una bella recensione dei Casio G-Shock full acciaio non è una provocazione, ma sarebbe veramente interessante sapere com'è costruito e sentire le tue impressioni. Ora, non saprei cosa ti guarda, non la prendo come una provocazione e ci potrei anche pensare, ci potrei anche ragionare, cioè, prendere un G-Shock full acciaio, fare la recensione. Interessante sapere com'è costruito? Non lo so, non ho idea, cioè, è tutto elettronico dentro, cosa... però ci potrebbe anche stare che un giorno, preso da un attacco di pazzia, mi invito a fare la recensione dei Casio G-Shock full acciaio. Ciao Davide, c'è qualche orologio che ti è stato lasciato in dono da qualche tuo familiare e a cui sei particolarmente legato? No, nessuno mi ha lasciato mai niente, zero. Però sono a conoscenza del fatto che il mio bisnonno, quindi è nato nel... ai primi del novecento, nel 1900, mettiamola così, non mi ricordo, però il novecento, bisnonno, che ormai faccia l'anima sua, era dipendente delle ferrovie dello Stato, che nei primi anni del secolo scorso, insomma, erano importanti, più di adesso, era uno dei principali mezzi di locomozione e, da quello che so, aveva in dotazione gli orologi da tasca, poi da polso, non lo so, delle ferrovie dello Stato. Solo che purtroppo sono andati tutti a finire, sapete bene, bisnonno, quindi si ramifica poi l'albero genealogico, ci sono parentele dal lato A, lato B, lato C, lato D, e sono andati a finire in un altro ramo della famiglia, ora, io non è che posso andare da quell'altro ramo della famiglia a dirgli, ma gli orologi del bisnonno è possibile averli, perché chissà cosa si immaginano che c'è dietro, quale guadagno economico possa esserci, no? Quindi vai anche lì a fare la figurita di quello che va, ah, se lo chiede, se chiede gli orologi vuol dire che ci sono... e... c'è un guadagno, no? Non possono pensare che magari è solamente per amore dell'orologeria, quindi evito, però quello è... Ciao Davide, volevo sapere qual è stato il primo orologio che hai comprato al quarzo e il primo automatico, e come prossimo orologio cosa hai in mente? Il primo orologio che ho comprato al quarzo è stato un Sektor, un Sektor no limits eh, usavano, usavano, negli anni 90 usavano, e non mi ricordo nemmeno come era fatto però ho comprato quello, il primo orologio automatico è uno swatch, uno suocino automatico e come prossimo orologio cosa hai in mente? Come prossimo orologio non lo so cosa hai in mente è un po' che ovviamente panerai, beh, non so, non so, non so quale modello, come, perché, dove, quando mi fanno la testa così, mi dice, no ma questo qua, no ma questo qua, no ma quello là, no ma quello là poi alla fine va, come al solito che decido io, imbarba tutti i vari dogmi che esistono sull'impermeabilità, sull'automatico, manuale, calibro vecchio, calibro nuovo, fondo trasparente, fondo chiuso vedrai che scelgo di testa mia, però non lo so, panerai, pure un sognetto, un sognetto un pochino grande, no, che però uno dice, ma vendo, vendo 5 orologi, lo posso anche fare quel sogno lì, però vendili un po', il Patek Philippe Calatrava, no, è oro bianco e vendo, vendo, e lo prendo, poi sono contento se vendo 5 dei miei, no, no, allora magari aspetto un attimo, panerai, ho detto, se no cosa c'è di interessante, eh, c'è nella marea il Rolex Giot Master Acciaio Oro mi piace, ad esempio, quello mi piace, oppure, tanti l'Omega Constellation Glob Master Acciaio Oro, ce ne sono tanti, che tengo lì sotto controllo il GGLQ3 Reverso, tanti, per non parlare di quelle a fascia sotto, anche a fascia sotto dai 1000-2000, ce ne sono tanti che mi piacciono, vedo ZIN mi piace, ZRC mi piacciono eh, vediamo, ciao Davide, secondo te ogni quanto tempo è bene cambiare le guarnizioni dell'orologio per evitare allagamenti, 5 anni oppure 8-10 in occasione della revisione del movimento? 8-10 in occasione della revisione lo dici te, 8-10, perché tutte le case ti dicono, a maggior parte, 5 anni a revisione, quindi sarebbe 5 anni, però sappiamo tutti che va benissimo farla 8-10 anni, nessuna di queste, nessuna di queste, perché la guarnizione dell'orologio per evitare allagamenti la controlli, come fai a controllarla? Ogni estate, prima di andare al mare, prima di immergere l'orologio, la porti dall'orologiaio di fiducia e gli dici mi fai la prova impermeabilità all'orologio, qui la metti nella macchinetta, ti fa la prova di impermeabilità, ti chiede quegli euro che ti deve chiedere e te sei a posto, sai che le guarnizioni sono a posto, finché non arriva quella volta che non sono a posto e allora vanno cambiate, allora a quel punto lì fai il contrario e dici, ma già che cambi le guarnizioni facciamo anche la revisione, sarà il caso, e fai tutto insieme, no? Controllare, controllo, il controllo, fai il check, è come dire uno, le gomme della macchina quando le devo cambiare, ogni 8 anni, dopo 8 anni cambi le gomme della macchina, cazzo ma se si consumano prima le cambi prima, no? Come fai la prova visiva, come fai la prova impermeabilità? Quando non viene più definito un microbrand, che domanda una, perché ce l'ho messa questa? Quando non viene più definito un microbrand, ci sono tante situazioni che definiscono un microbrand e non definiscono un microbrand, di sicuro uno è una, tanti sono, sono tanti gli elementi che definiscono un brand da un microbrand, una collezione ampia con più, una collezione con più orologi, no? Solitamente il microbrand fa un orologio, un modello, poi finisce quello, ne inizia un altro, finisce quello, ne inizia un altro, un brand serio, serio, un brand strutturato ha le collezioni di orologi e li rimpingua, li rimpingua, fin che poi dopo non decide di toglierlo, perché c'è il modello nuovo. Oppure il numero di dipendenti, no? Il microbrand di solito è una o due persone che poi demanda il lavoro a fornitori, il brand strutturato ha tanti dipendenti, la sede ha una sede strutturata con magari un reparto controllo qualità, assemblaggio, cosa che i microbrand non hanno, si fanno mandare gli orologi già assemblati a volte, oppure comprano le componenti, li fanno assemblare dall'orologiaio di fiducia, hai capito? Ci sono tante situazioni, il numero di pezzi venduti, tante, tante. Proveresti ed eventualmente faresti una recensione di un brand cinese affermato come San Martin? No, 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 non mi piacciono a me questi brand cinesi qua che tendono ad imitare gli occidentali, no? Sia orologi che per la maggior parte sono copie di orologi svizzeri o tedeschi, no? Occidentali, sia nel nome, no? Pagani design, io ho un marchio che si chiama Pagani design, ma io lo vado a comprare, un marchio che si chiama Pagani design, o San Martin, San Martin, no, no, perché cercano di mettere le scarpe in una situazione che non è la loro, ora mi ricordo addirittura un altro marchio a gelo chair che faceva finta si era spacciato anche per una sede svizzera, cioè fanno di tutto per poter cercare di far credere, tra virgolette, no? Cioè di imitare l'occidente, preferisco quei marchi che si chiamano Seagull, Seagal, no? Oppure che hanno i nomi qui in Cung Chan, che sono cinesi veramente, che sul quadrante hanno gli ideogrammi, che ti fanno un orologio con una foggia completamente differente, no? Che abbia qualcosa di orientale, di cinese, cioè dovrebbero essere contenti di essere cinesi, di essere orientali, di avere quella cultura, hanno da pescare a piene mani dalla loro cultura, cercare uno storytelling, no? Di raccontarti qualcosa della Cina, di quello che c'è dietro, perché poi gli orologi se non far bene e invece no cercano di andare ad imitare la parte occidentale dell'orologeria storica che ha fatto la sua strada fa il suo corso si fa gli affari suoi come si suol dire vende non vende però ti non devi andare ad imitare se vuoi fare qualcosa di interessante fai qualcosa di diverso ok cosa ne pensi del Seiko Field Contra orologio a tre moduli anni 80 lo vorresti nella tua collezione nonostante sia un quarzù no non lo vorrei ma ti spiego anche perché cioè se io lo vedo indossato da te gli do anche il topo magari ti dico faccio i complimenti ti dico bello bellissimo quando l'ho visto infatti anche nel video dei follower bello è sempre un piacere vedere un orologio del genere io non lo vorrei semplicemente perché deve avere un senso io non non posso comprare un pezzo così un orologio così particolare così da solo fine a se stesso dovrei fare una collezione mirata di qualcosa di particolare ora uno che fa una collezione di Seiko no magari anche limitata degli anni 80 no al quarzo e quello lì ci deve essere oppure anche una collezione di Seiko oppure di orologi degli anni 80 anche non Seiko misti allora ci sta quello lì ma io avere un pezzo così solo unico non mi darebbe quella soddisfazione che si meriterebbe capito deve essere inserito in una collezione strutturata preso così una tantum secondo me non ha senso ma come altri orologi non solo questo qua dove studiare e raccogliere informazioni per poi iniziare con consapevolezza una collezione Seiko vintage cioè se non hai idea sei già sul piede sbagliato cioè è un casino allora la prima cosa le informazioni le raccogli sulla rete no ci sono anche libri non ho idea ci saranno ma sulla rete c'è tutto ti scrivi a tutti i forum di questo mondo che parlano di orologi poi con il tastino cerca cerchi Seiko vintage poi dopo quando trovi un modello interessante cerchi quella referenza studi poi la cerchi su internet e studi quella referenza è un lavoro lungo cioè è un lavoro lungo però se sei appassionato quando c'è la passione ti metti a fare le ricerche che vanno per finire anche in inglese in austro-ungarico e cerchi di capire le traduci cerchi di capire quante più nozioni hai ti consiglio tra l'altro anche il forum 1881 si chiama proprio così che è l'anno di fondazione di Seiko e lì sono tutti seichisti che sanno quasi tutto di Seiko quasi dico quasi perché non si può sapere tutto proprio per lasciarti una percentuale di errore però anche lì ti consiglio non di entrare ma in qualsiasi forum e fare questa domanda salve volevo avere informazioni su Seiko vintage e ti danno un scappellotto qua e ti bannano io farei così perché non puoi entrare in un forum dove si parla di calcio cosa ne so e fare la domanda ma perché si batte il fallo laterale ma vai a imparare prima di venire qua e impari leggi leggi senza scrivere niente leggi cerchi cerchi quando un giorno avrai una domanda mirata precisa che alla quale fa piacere anche dare una risposta no intelligente mirata allora la fa la fai però prima studia 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 Davide buongiorno mi consigli un prodotto per pulire i cinturini in acciaio secondo me non serve nessun prodotto specifico per pulirli io utilizzo la lavatrice a ultrasuoni che è un affaretto così preso su amazon trovi anche il link sotto guarda sotto il video ci sono i link dove io lo metto con le chantecler gli faccio fare 5 6 7 cicli a ultrasuoni e mi leva lo sporco poi si può anche lavare tranquillamente con acqua e sapone neutro senza problemi cioè non ci sono problemi una cosa invece che sto facendo che l'ho già detto sto testando è la lubrificazione un'azienda mi ha mandato due campioncini di un lubrificante per gli ingranaggi interni sarebbe professionale per gli orologiari quindi è anche spercato però mi hanno detto che va bene anche per lubrificare le ghiere le corone i bracciali le clasp e io lo sto testando proprio per una volta lavato un bracciale pulito anche la ghiera che ruota ci do questo lubrificante e vedo che funziona che me lo fa tornare perfettamente tutto perfettamente funzionante poi farò un video ciao davide ci spieghi come vengono date le concessioni dei marchi importanti ai negozi multimarca ad esempio iwc è un marchio poco diffuso è anche un negozio ben fornito come quello di giacomo non lo ha scelta sua o è impossibilità di averlo le concessioni vengono date dai marchi semplicemente in base all'importanza che il marchio si dà di se stessa non è meno quella che gli dà il mercato quella che si dà di se stessa certi marchi tendono a togliere le concessioni ai negozi multimarca un negozio multimarca è quello che ha più marchi all'interno e aprire o la boutique propria oppure mettere il proprio marchio laddove ci sono quei due o tre marchi di prestigio come può essere Rolex Patrick Philippa allora cercano tutti di infilarsi lì perché secondo loro essere a fianco di quegli altri due marchi gli dà prestigio senza immaginarsi che poi non vengono venduti e poi ci sono quelle case invece che hanno la possibilità di dare concessioni ci sono degli altri impedimenti un impedimento può essere il fatto che il negozio vuole la concessione ma c'è già una concessione ad un negozio che ha 30 km di distanza non può averla c'è anche un minimo di distanza tra concessionari che deve essere rispettato quindi se ce n'è uno nel paesino a 30 km a meno me la danno quella concessione lì oppure come fa i WC che sta cercando di aprire boutique monomarca però affidate a terzi ad una persona terza e ora qual è il problema che io ho sentito anche dire che quando aprono le boutique lo fanno anche per mantenere un certo prestigio perché le boutique non fanno sconti a differenza di un concessionario multimarca che magari vai al banco gli fai due carezze lo lecchi un pochino e ti togli il 5% e boutique non lo fanno proprio nel principio sia che sono gestite dalla casa che da un terzo da una persona terza e uno si domanda ma come fate ad andare avanti a vendere gli orologi se si trovano poi magari in giro un po' di sconto per certo che a loro non interessa vendere c'è la boutique X sul Ponte Vecchio a Firenze che è il posto rinomato oppure a Forte dei Marmi c'è la boutique va in perdita per loro non è un problema per loro quella perdita lì viene calcolata come marketing perché vengono i turisti stranieri vedono la boutique monomarca o acquistano l'orologio oppure per loro è situazione di marketing fa prestigio sono soldi spesi in prestigio poi gli orologi li vendono altrove comunque se li vendono poi li vendono a prezzo pieno funziona così e la maggior parte dei margini sta cercando di quelli un pochino più alti sta cercando di andare su questa strada affinché poi vedrai che torneranno indietro perché non si può non ha quasi senso mi hanno detto Tagoyer sta aprendo delle boutique monomarca poi qualcuno mi ha detto che al centro commerciale all'outlet di Serravalle ti vendono gli orologi al 30% di sconto proprio Tagoyer in persona quindi c'è veramente una dicotomia che non si riesce a comprendere contenti loro contenti tutti movimenti con blocco in plastica calibro 5 Tagoyer per esempio pro e contro guarda non mi interessa sinceramente più di tanto se il fermo movimento in plastica o in metallo certo è deprecabile cioè quando lo vedo dico ma guarda sti morti di fame ci mettono un pezzo di plastica dentro tenere fermo il calibro però come al solito se a me mi piace l'orologio a un certo punto me ne sbatto anche gli scatoloni però si è deprecabile non fa fare una bella figura alla casa che lo costruisce diciamo la verità perché anche perché i pro quali sono i pro non lo so quali sono una volta pensavo che fosse magari un antishock in più perché c'è un fermo movimento in plastica assorbe meglio gli urti ma sinceramente non è così io amo profondamente l'aspetto dell'EVC portoghese vorrei acquistarlo come regalo per la pensione un giorno ma sento molti pareri che considerano il suo movimento di basso livello non degno della sua fama mi consigli di fregarmi non seguire il cuore o effettivamente è una ciofecca guarda non lo so perché il portoghese sinceramente ci sono tante referenze c'è il cronografo c'è solo tempo quelli nuovi quelli vecchi non so che calibro un cassano quindi non saprei non saprei dirti qua non capisco quale possa essere il non degno della sua fama comunque ti dico che sono cose che alle quali io non do non do seguito nel senso non ho detto mille volte c'è il Breitling del GMT che dentro c'è il Sellita 5.000 passa euro non mi interessa non mi interessa se viene considerato non degno della sua fama quando compri il Breitling cronomat degli anni 80 lui dentro c'è il 77-50 non è che ha i salti mortali oppure gli fanno tutti la bava dietro quindi se a te ti piace l'orologio il cuore ti dice quello ma cosa te ne frega se gli altri non lo consigliano degno della sua fama non bisogna fissarsi anche troppo ciao Davide c'è un orologio che rimpiangi di non aver comprato sì qualche anno fa il 2020 forse c'era il covid a Via Reggio c'era uno che vendeva l'Omega Dynamic Cronografo ma mi è sempre piaciuto quello con il calibro a panino il sandwich col modulo e lo vendeva a 1000 euro io ho cercato di tirare giù e mi ha detto di no e a 1000 euro non l'ho preso con scatole garanzia ho sbagliato mi piaceva lo volevo lo dovevo prendere tanto più che oggi costa molto di più quindi lo dovevo prendere quello lì sì ciao Davide quando e se mai acquisterai un Panerai su quale referenza punteresti o ti piacerebbe avere in collezione non lo so ancora sicuramente una con i piccoli secondi che girano diciamo una di quelle lì possibilmente a 300 metri possibilmente ma ora sto andando anche sui 44 45 mm non mi spaventano più quindi però non lo so devo ancora decidere ce ne sono tante mi piace anche il Submersible per esempio che è completamente differente dagli altri la mia domanda è sulla gestione degli orologi utilizzarli a turno per lunghi periodi o cambiarli spesso per farli marciare con conseguente necessità nel mio caso di aprire la corona e regolarli ogni 3-4 giorni la gestione degli orologi utilizzarli a turno per lunghi periodi o cambiarli spesso ma io non me la pongo questa cosa qua cioè ci sono giorni in cui ne indosso 3 io ho la scatola del tempo appositamente per mettere un paio di orologi in modo che si caricano con la scatola del tempo quindi non devo poi svitare la corona che è sempre un'operazione in più superflua c'è un filetto lì svitare la corona sistemare riavvitarla mettere la data sono tutte operazioni superfue quindi i due orologi sono già lì fissi che girano quindi ce li ho già a disposizione magari uno manuale lì che ogni mattina carico anche se non lo uso lo carico lì c'erano già tre a disposizione due li alterno e ho i miei orologi da far girare poi a un certo punto uno di questi lo tolgo lo metto in cassaforte ne prendo un altro lo faccio girare quello è così non è che faccio una regola però la scatola del tempo mi aiuta in questo caso per molti è inutile per me è utilissima sto anche pensando di prendere la seconda a batteria metterla dentro la cassaforte così quei due che sono dentro la cassaforte girano e poi me li piglio si consumano gli ingranaggi ma cosa si consumano me li vendono per utilizzarli al polso 24 ore su 24 figurati un po' se si te lo consumare cosa ne pensi della maison Jacques-Édreau considerando la storia e quello che fa ora le penso tutto il bene possibile e penso che li potete indossare voi non mi piacciono succede spesso che le case blasonate che fanno alta orologeria fanno orologi che non mi piacciono questi qua sono anche famosi per gli automi sono famosi per questi quadranti pittoreschi tutti realizzati a mano c'è veramente artistici c'è veramente sono veramente di pregio costosi di pregio e non plus ultra dell'orologeria ora più complimenti di così non posso farglieli no detto questo credo che in vita mia non ne comprerò mai uno non ne desidero uno e non mi piacciono purtroppo è così non pensi che sarebbe bello parlare ogni tanto di orologeria indipendente tipo F.B. Giorn credo che la vera orologeria si trovi lì e in pochi altri brand bene vai a cercare chi parla di queste robe qua perché a me non mi vedrà mai parlare di orologeria indipendente non mi interessa cioè non è che perché uno fa degli orologi che sono il non plus ultra della tecnica dei calibri dei quadranti e di chi più ne ha più ne metta io vi metto a parlarne non mi interessa io parlo delle cose che mi interessano che possono essere base base può essere il secco 5 l'omega Deville Patek Philippe Calatrava le cose che mi interessano quelle che non mi interessano non ne parlo non mi interessa cioè le devo parlare per far per sembrare così che sono l'intellettuale dell'orlogeria no le faccio a meno un casio che vorresti e un secco che non vorresti allora un casio che vorrei è il casio edificio ma anche anche un g-shock dai buttala lì come c'ho il citizen echo drive che c'ha l'accumulatore potrei vendere anche un g-shock da tenere lì ma tanto poi non lo uso però va bene un casio edificio dai e un secco che non vorresti il secco che non vorrei è il secco kinetic perché non mi piace il concetto che c'è dietro quel calibro lì che si si ricarica con il rotore cioè non mi piace non mi piace visto che sei appassionato sia di auto che di orologi preferisci avere la tua auto dei sogni o il tuo orologio dei sogni ma non lo so mi sa che nessuno ha dei due la mia auto dei sogni è quella che poi non potrei utilizzare per andare in giro ma ti prendi una macchina sportiva come una Ferrari una Lamborghini poi dove ci va io dove ci vado il mio stile di vita di vita non comporta l'utilizzo di una macchina del genere cioè in città così per andare all'esse lunga no proprio no quindi l'auto dei sogni nel fin dei conti è una di quelle che possiamo avere tutti sono quelle lì le mie auto dei sogni io sono abbastanza razionale terra terra anche negli orologi quello che desidero è quello che quasi posso avere che ci manca poco per averlo non desidero quelli che sono completamente fuori dalla mia portata sono fatto così è come il mio orologio dei sogni il mio orologio dei sogni qual è non lo so nemmeno io qual è il mio orologio dei sogni sto così tanto bene con tutti quelli che ho attorno e tutti quelli che potrei avere di nuovo attorno come dice la scimmietta che non ho bisogno dell'orologio dei sogni ora è Patek Philippe Calatrava posta 28.000 30.000 aspetta vendo gli orologi e lo prendo dei sogni fino a certo punto con uno sforzo lo faccio non mi va di fare lo sforzo l'orologio dei sogni non è quello da 100 200 300.000 non ce li ho quei sogni come mai si dà spesso per scontato che ad una donna piacciono gli orologi piccoli e al quarzo non è che si dà per scontato ragazzi voi dovete calcolare che le cose le informazioni vengono date anche per statistica cioè se la statistica dice che la maggior parte delle donne indossano orologi al quarzo e di piccole dimensioni e noi ci ragioniamo in quel modo lì si va per statistica non è che ce ne inventiamo le cose ho detto questo che poi è un discorso che vale per tanti altri ambiti va bene detto questo io ragazzi la finisco qua perché non ho più la salivazione quindi devo andare a guardare i gattini su Instagram è uguale anche senza salivazione vado a guardare i gattini su Instagram a scimmietta la metto a dormire e guardo i gattini su Instagram io non mi resta che ricordarvi gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su YouTube love